Gentili telespettatori, buona giornata. E così la boccia, caso San Giuliano boccia, dice Fazzolari, chiarisca sul mio rapporto con Lollobrigida. Sapete che si continua a dire che questa boccia girava sia intorno a San Giuliano e girava intorno anche a Lollobrigida. Da quello che si è capito, San Giuliano è stato avvertito e c'è cascato, Lollobrigida è stato avvertito e l'ha allontanata. Questo si dice, poi quello che sia realmente successo non si sa, sta di fatto che Arianna Meloni ha detto basta con Lollobrigida dopo 30 anni dicendo l'amore in altra cosa. Saranno dei fatti collegati? Allora, il nuovo post su Instagram dice Io e Lollobrigida ci siamo visti due volte, attendo una risposta. Fazzolari, chiarisca sul mio rapporto con Lollobrigida. Alla boccia interessa rimanere sulla cresta dell'onda, quindi più cose vengono fuori anche magari non vere, meglio è, parliamoci chiaro. Quindi un nuovo post su Instagram della boccia che ha portato alle dimissioni del ministro San Giuliano dopo quello che è successo tira in ballo il sottosegretario di Fratelli d'Italia, Giovanni Battista Fazzolari per allontanare le voci che parlavano di una sua vicinanza con il ministro dell'agricoltura, Francesco Lollobrigida ex marito proprio di Arianna Meloni che avrebbe telefonato a San Giuliano dicendo stai attento alla boccia Carissimo sottosegretario Giovanni Battista Fazzolari dice la boccia Ci puoi illuminare sul mio presunto accreditamento al ministero dell'agricoltura? Ci mostra le mail e i messaggi che ho inviato? Io e il ministro Lollobrigida non abbiamo una conoscenza approfondita Ricostruiamo Ho conosciuto il ministro Lollobrigida il 5 agosto 2023 a Pompei L'ho incontrato per la seconda volta il 20 dicembre 2023 in sala stampa per la presentazione dell'intergruppo parlamentare dieta mediterranea, nutrizione, prevenzione, cultura Il ministro è arrivato in sala stampa qualche secondo prima dell'inizio ed è andato via subito dopo il suo intervento Il ministro è stato invitato da Marta Schifone Abbiamo invitato il ministro al festival della bellezza Sanremo 6-10 febbraio 2024 Il ministro non ha presenziato Abbiamo inviato presso il ministero dell'agricoltura un presente alimentare al ministro Il ministro mi ha inviato un biglietto di ringraziamento penso che sia un prestampato che la segreteria invia tutte le persone che spediscono doni Ho ripostato la conferenza stampa della presentazione dell'intergruppo il 28 maggio 2024 Quindi io e il ministro all'olobrigida ci siamo visti due volte e non abbiamo i contatti telefonici Attendo una risposta dal sottosegretario Fazzolari Allora non ho idea di che cosa Fazzolari abbia precisamente detto Forse ha detto Fazzolari che lei cercava in tutti i modi di accreditarsi in quest'altro ministero Io vi parlo di un'altra cosa Una parlamentare di Forza Italia è una parlamentare napoletana che dice qui a Napoli i politici la conoscono tutti questa boccia perché è una che cerca in tutti i modi di accreditarsi di qua di là e dice questa parlamentare guardate che di persone come la boccia l'ambiente politico è pieno 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 e i politici ormai hanno imparato a prendere le distanze da questo tipo di persone che circolano nell'ambiente che cercano di avere vantaggi di intrufolarsi e diceva che questa boccia dopo aver lavorato con lei su qualcosa ha continuato poi a chiamare la sua assistente insistendo insistendo per farsi accreditare di qua e accreditare di là e da quello che ho capito la signora poi dice l'abbiamo completamente allontanata perché abbiamo capito il tipo quindi se Fazzolari dice che lei ha tentato di accreditarsi al ministero non è poi così una cosa campata per aria insomma diciamo che non è impossibile ma potrebbe essere anche qualcosa che ha tentato di fare insomma se il personaggio è quello probabilmente avrà magari tentato di accreditarsi anche al ministero dell'agricoltura cercando di di inserirsi nella politica nella grande politica quella dei ministeri eccetera eccetera non delle sezioni di paese direttamente all'origine ecco pertanto c'è questa diciamo questa cosa che si sente insistentemente sui giornali c'è stato qualcosa boccia lollobrigida è insistente diversi giornali continuano a girarci intorno ma fino ad oggi non c'è stata nessuna notizia che possa dimostrare realmente che ci sia stato qualcosa tra boccia e lollobrigida lollobrigida non dice assolutamente nulla la boccia dice che non c'è stato assolutamente nulla la cosa che è sembrata un po' strana è che proprio Arianna Meloni dopo 30 anni abbia mandato a quel paese lollobrigida e Open questa mattina scriveva che la Meloni Giorgia Meloni non rivolge più la parola lollobrigida ma c'è un grosso ma e beh certo che se dovesse venire fuori una cosa come quella con San Giuliano mamma mia il governo farebbe una figura ma di quelle terrificanti insomma si dice che questa boccia ai 5 anni che gira intorno alla politica arriva al governo di destra e trova quelli che cadono come delle pere spero non esista il caso lollobrigida broccia spero non esista perché davvero sarebbe sarebbe di difficile gestione da parte di Meloni se fossero due ministri caduti nella rete sarebbe davvero davvero troppo insomma davvero davvero troppo e si andrebbe avanti a parlare di questa cosa penso per l'eternità e forse oltre l'eternità grazie a tutti e buon proseguimento di giornata ci vediamo presto grazie